Se l'ultimo dell'anno ti vuoi divertire al Cinema Teatro Ambra, devi venire con la compagnia La Divina Toscana. Il sorriso è sempre una cosa sana. I Sette Peccati Capitali Due atti comici con Alessandro Cecchini, Emanuele Batelli, Giovanna Nicotra e Rossella Gardetti. La serata inizia alle 20 con uno squisito aperitivo a buffet. Alle 21.30, I Sette Peccati Capitali Dopodiché i brindisi di mezzanotte con Pandoro, Panettone e Spumante Seguirà lo spettacolo di Cabaret, il burlacco show con sketch, improvvisazioni e proiezioni di cortometraggi comici. Il tutto a 45 euro. Cinema Teatro Ambra, Via Ambra 1, Poggio a Caiano Prato Acquisto billetto super vendita telefonando ai numeri 347 6741898 Che ne dite? Se l'ultimo dell'anno ti vuoi divertire al Cinema Teatro Ambra, devi venire!